Albe! Ah, Giovanna! Beh? Che ti ha detto il regista? Eh? Eh? Che sei bella! Sei proporzionata! Sei elegante! C'hai una bella silhouette? Ah, sì! Ma non sei interessante? Non so interessante? Così ha detto il regista. Non sei interessante. E chi ha preso? Ha preso la svedese. Quella con la faccia da cavallo? E quella che c'ha di interessante? A giochette devo dire. Sono scherzi del cinematografo. Se presenta una con la faccia da cavallo, la vanno a fotografare e vi è fuori la bamboletta. Eh? Quel tercino, ma più di fettici hai, è meglio risulti. Sarà certo che il tuo regista c'ha dei gusti strani, eh? Lascia stare il dottore, Giovanni. Ah, Giovanni, lascia stare il dottore. Quello lo sa il mestiere suo. Quello lo sa chi va e chi non va. Se ti dice che tu non sei interessante, mettete l'anima in pace. Sta buona, non ti disperare. E chi sei dispera? Io ci ho provato. Se mi andava bene beccavo 5 milioni. Mi è andata male, ciccia. E poi sai che ti dico? È meglio così. Tu dici è meglio così perché ti è andata male, Giovanni. Che c'è dentro in quella busta? C'è un belito francese. Ora te lo faccio vedere. Oh, ma che sei contento che mi è andata male? Ah, Giovanni, se andava a te, mi andrà bene a qualche anno. Sì, Sibò. A chi è il mio questo belito? A tuo nonno. A mio nonno. Non te la ricordi la fotografia di un nonno emigrante? Lo stesso beretto che c'hai tu è lo stesso faccione gonfio. Puoi essere che te sbagli su sto faccione. Ma già, ma che fai? Le valigie, che vuoi partire? Certo, che non vuoi partire. Che stiamo a fare qua? Ma perché se sta bene qua? Non se siamo mai mossi da Roma. Ma perché ti dispiace a fare una settimana in vacanza? Ma che stai a dire? Il magazzino, il banco? E chi se ne frega il magazzino? Non c'è il tuo padre. Alba, ma come hai fatto una cavoccia così che mio padre con la pippa manda a fuoco il magazzino? No, appena sei arrivato ne volevi andare via. E adesso sei tu che vuoi restare. E te voglio far godere una settimana sulla grotta azzurra. Perché non te vieni? Non sei contento? Mogliettina, non sei contento? No, e se sei contento tu? Sono contento io. Sono le circostanze. C'è sì buo. 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 Grazie a tutti.